L'evento nazionale del programma transnazionale MED, la Regione Emilia-Romagna è impegnata in un ruolo di co-presidente e di punto nazionale di contatto e lavora in stretta collaborazione col Dipartimento delle Politiche di Coesione e con l'Agenzia di Coesione Territoriale. È un momento importante in quanto la Regione si impegna a rappresentare, a collaborare con tutte le Regioni italiane in ambito sia nazionale sia internazionale, cercando di scandire e di rispettare tempi e priorità per realizzare quelli che sono gli obiettivi del programma MED.